Penultimo giorno di season, non c'è intro, non c'è nulla, ci facciamo qualche partita, vediamo come va Voglio dare l'addio alle catene, che poi le ho rivalutate negli ultimi giorni ragazzi, perché prima non le sapevo usare E non ho neanche mai portato un video su Fortnite in realtà, però ci sto giocando ultimamente quindi perché non portarlo Dai è una delle ultime volte che ci vado, andiamo a Tana Buono, questo è veramente veramente buono, anche le pacche Ah c'è pure il caricatore aumentato, e allora non è buono di più, tanta tanta roba Allora, diciamo che se non ne trovo altre è un po' un meno, però si è frizzato tutto, però sicuramente è meglio di avere gli sceldini Macchina Meglio della mitraglietta sicuramente Scudone ce la facciamo subito, vedo un'altra cosa dorata lì, forse è un'arma però No, non era dorata, vabbè Il daltonismo ogni tanto si fa sentire Ma il bot l'hanno... l'hanno già preso immagino Sì Mi stanno sparando? Sì, evidentemente sì Mi sta anche aspettando O ci crepo io O ci crepo a lui Ho smirato un po' ma va bene, va bene Ma... faccio il downgrade ma... Almeno ho un mirino decente Qui era morto anche qualcun altro C'è un'altra macchina che sta venendo al bunker Sì Lascierei andare la macchina E aspetterei il bro Ah cazzo c'è altra gente Vaffanculo Andiamo alla prossima ragazzi Stavo... erano in due Va bene, va bene Prossimo Ho voglia di suicidarmi quest'oggi Non volevo andarci al monte olimpo Invece ci andrò, ci andrò Voglio salutarlo Morendoci ovviamente appena a terra Anzi, anzi Vado qua È un po' più tranquillo Teoricamente E tranquillo non... Non lo so C'è già gente che ha atterrato anche prima di me Ovviamente Oh, le catene Vi devo dire Atterrare e trovare le catene È una goduria immensa È una goduria... Catene più dominio dell'acqua È una goduria immensa Lo ammetto Più sbocchio Non so se si può dire Però è una goduria A prescindere Qua si stanno sparando Io mi sparo prima questo Ci prendiamo questo Provvisorio ovviamente Perché fa cagare E poi in realtà Essendo che la gente è appena atterrata Potrei pushare Tranquillamente Questa fa veramente sboccare Ci prendiamo il pompa Anche se userò le catene Oh, qui qualcosa di buono c'era, eh Pompa epico così Qua c'è gente Allora, l'ho anche lisciato in realtà E c'è anche altra gente Che sono bot, vabbè Quello che importa è il bro In questo momento Il fucile blaster può rimanere lì Fa cagare Vabbè, questo è il bot Eccolo Non è vero, non è vero Non posso morire Adesso Ok Qua c'è un'altra persona È un bot? Bella domanda Oddio Che se la camp era così Non lo so se è un bot Non sono sicuro In realtà pensavo di essere messo peggio a vita O l'avessi preso una volta, eh Una Ok Peccato Peccato Un boss Orca troia Finché sono i bot Va bene Il problema è se arriva qualcun altro Mentre sto facendo il boss Non so neanche se sentite qualcosa Perché c'è un bordello allucinante Allora L'assalto me lo prendo Mi prendo anche questo E direi che possiamo andare Ci spariamo un medikit qua E in realtà Non so quanto mi convenga Tenere sto Sto merda Anche perché armi a distanza Non ne uso Uso il dominio dell'acqua Non credo conti come arma a distanza Quindi Cioè rileva la mia posizione Assolutamente per niente Non so se lasciarlo giù In qualche modo Che mi dai uno scudone Lo accetto Anche cura bomba Le prendiamo Più scudone Siamo di nuovo full Devo dirvi Non mi comincia per nulla sto Ok Allora banana la prendiamo E poi non so se lasciar giù Il pompa Visto che uso le catene Vi dico di sì Vi dico di sì Le ali ci servono Dovrebbe esserci Siamo all'interno Proprio nel centro Di un medaglione Quindi Non è nostro Ah ecco dove cazzo era Ok Oh mi viene a pushare Oh io t'aspetto Col cazzo Che mi spari quella merda Mi ha preso sto Mi ha preso Mi ha preso Mangia mangia Ma c'è gente Dentro la casetta O sono io Rincoglionito No c'è gente Non sono rincoglionito Allora Vabbè Prendiamo E via Sì ho una mezza sensazione Secondo me ragazzi No 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 Ok Dicevo secondo me Quando sparo Faccio qualcosa O c'è un fight Si sente molto di più fight Che la mia voce Ma va bene Qui c'è altra gente Ah ma sono in due Stavolta si Ah no Penso di no Questo è morto Ah no è il bot È il bot Ah no Non è solo il bot Non è solo il bot C'è un'altra persona Via 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 Uno è morto Eccolo lì Preso Uno due Tre Morto Mamma mia ragazzi Le catene Mamma mia ragazzi Le catene Cioè io le Le adoro Le amo Devono per forza toglierle Che poi non so neanche Cioè magari il video esce Che l'han già tolti Cioè che è già iniziata La nuova season Non lo so Non lo so Ah so Di una cosa sono certo Che questa schifezza La lascio giù Tanto mi rileva la posizione Per nulla Assolutamente per nulla Quindi ce ne andiamo Ah la banana Vi dico Si me la prendo Dai Ma se l'ha inculata Oh Se l'ha inculata Al bro Ma che cazzo Dici Se l'ha mangiata Ma non ci posso Credere Allora Sento spari Però siamo in top In top Undici Quasi dieci Quindi ci mettiamo Ci mettiamo in game mode Ci mettiamo in game mode Attiviamo la creativa Potrebbe essere una buona preda Se non ci facciamo beccare prima Ecco adesso vedo i passi però Ok Non ci ha presi una volta Aveva anche delle armi di merda Non so In realtà Come ci si è arrivato Fino Fino a ottavo Va bene Gente qua Eccolo 1 2 E 3 Mamma mia Mamma mia Ragazzi cioè 7 kill Io penso Mi sembra Non vorrei dire cazzate Le catene le ho trovate appena atterrato No 7 sono le persone scusate 6 kill Penso di averle fatte tutte con le catene Tutte Qui c'è letteralmente uno di fianco a noi Siamo chiusi a panino ragazzi Siamo chiusi a panino Puntiamo a prendere questo Puntiamo a prendere questo Mamma mia Mamma mia Questo aveva poca vita Era praticamente morto Però Cristo santo le catene Cioè sono unfair Guarda eh No l'ho lisciato Cazzo Merda Ci crepo Porca troia Me la son tirata Me la son tirata Ho detto le catene Sono unfair L'ho lisciato Cioè se l'avessi preso Se l'avessi preso Quando lo stavo attirando a me Erano 60 di danno in più Questo era morto Era morto automaticamente 7 kill Peccato che siamo arrivati quinti Secondo me potevamo vincerla tranquillamente Potevamo vincerla tranquillamente L'ho lisciato E ho perso Oh prima ci è andata bene Abbiamo trovato le catene qua E ritorniamoci Non ci credo Ah cazzo Niente Queste hanno Sono utili fino a un certo punto Non ho un'arma Mi sembra giusto Dai Pushare Con un'arma sola Con tre colpi Senza poter ricaricare Allora questo è buono Questo pure Porca di quella troia E mi sparo questo Perché questo adesso mi pusha Sono pure in due Tanto che fightano loro Eccole Eccole qui Eccole qui Ce le abbiamo Cazzo Per un attimo Oh gente Oh gente gente Cazzo Probabilmente non era full di scudo Perché Di solito Oh Che cazzo è Ah mi stanno sparando Con la Con la merdina lì Non lo posso prendere da qua Immagino Ho il dominio dell'acqua Però voglio usare le catene Troppo Troppo fighe Beh finché non mi shot ovviamente Eccolo preso Uno Due E tre Mamma mia Mamma mia Ho sei Sei granate a impulso Quindi secondo me Non mi conviene Assolutamente Prendere le ali Non so se prendere la banana Sono due Sono due banane Sì dai Due banane Sì Una no Una è troppo poca ragazzi Preso Uno Due E tre No L'ho lisciato Uno due Non crepa Eh vabbè Però l'ho lisciato due volte Con il Cazzo Questo è praticamente morto Posso Tu mi puoi essere utile In questo momento La priorità è andare in safe Quindi Ci prendiamo questa E ci andiamo Poi qui c'è anche gente Quindi ci sta eh Cioè me lo faccio andare bene Io sono un pazzo Quindi Pushiamo anche Va bene C'è anche una macchina Che proverà a tirarci sotto Ma non ci riuscirà Inutilmente Quello è scappato L'altro è scomparso E niente Non abbiamo concluso un cazzo Va bene Ah c'è uno che sta salendo sull'isola Ma ci saliamo prima noi Ah no È salito anche lui Siamo in due Allora se lo prendo è morto Il problema è se non lo prendo E se non lo prendo Sono morto io Ah è scappato Affanculo Non voglio rischiarmi la vittoria così Andatevene tutti a fare in culo Uno Due No non l'ho preso Ok Morto Via 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 subito Via subito Siamo in nove ragazzi Siamo in nove Ce la dobbiamo giocare bene Non è facile Diciamo che degli scudi Mi farebbero molto 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 comodo Perché Con soltanto Cento di vita Senza scudi Ecco Ci crepiamo Eccolo là Eccolo là Ok Ah sì Mi stanno sparando sì Cazzo Col dominio del cazzo Allora Questi no Non sono scudi Medikit Non mi servono Mi ha ucciso il bot Ah vabbè Non si è accorto di nulla Non si è accorto di niente Adesso ci mangiamo una di queste Velocemente Le lasciamo giù un secondo E ci beviamo questo È l'unica cosa che posso fare È l'unica cosa che posso fare Siamo in 4 Ragazzi Eccolo Ok 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 Attenzione 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 Banana che sono morto 1v1 Qui c'è anche uno scudone Se non mi sbaglio Vediamoci anche lo scudone Non so quanto toglie Sta merda adesso Troppo Sì probabilmente troppo Ci riprendiamo la banana Ci mangiamo la banana E ora si può correre Non ho preso nessun medaglione Né niente ragazzi Probabilmente ci muoio Perché non so dove è l'altro bro Le ali preferirei non usarle Quindi per andare in safe Ci tocca fare una cosa del genere L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto Eccolo Non è vero Non ci crepa Non crepa Eh ragazzi Io il video lo chiudo così Con le cazzo di catene Le cazzo di catene Io le amo Io le amo Gli diamo l'addio così ragazzi Gli diamo l'addio così Con 12 kill Le catene Le catene ragazzi Penso di aver fatto tutte le kill Con le catene Forse un paio Con il dominio dell'acqua Quando ero lontano Mamma mia Che arma Che arma Mi dispiace perché A parte che ci gioco da poco ragazzi Ma Le ho scoperte da poco Cioè Prima mi facevano cagare Non le usavo Se le trovo Le lasciavo giù Adesso no Cioè utilizzo solo queste Sono un drogato di catene Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate like Condividete Iscrivetevi al canale Per supportare Spacchiamo tutto Anche questo tipo di contenuti Se volete un altro video Di questo genere E ciao a tutti